salve a tutti ragazzi il nuovo avvistamento questa volta in argentina ultimamente tra messico e argentina non si capisce nulla qui siamo a tandil penso che così si pronuncia ragazzi ma comunque guardiamo il video quindi fin qui nulla di strano ma guardate che in cielo appare qualcosa di strano quindi questo ragazzo stava così perdendo tempo vede questa luce nel cielo e si mette a registrare col cellulare sinceramente pure io a un certo punto del video ha detto ma che diavolo può essere eccolo qui vedete ragazzi non può essere un aereo non può essere perché sta sospeso quindi è come se qualcosa sta sospeso in aria quindi vedete poi uno due cioè non si capisce neanche bene che diavolo sia finale quindi come sempre io dico rimane un mistero ma che nessuno di noi può sapere però anche andando avanti indietro ecco qui dove si vede meglio io potrei anche ingrandire ecco qui lo ingrandiamo sembra che non lo so ragazzi che posso dire una luna per me troppo non è che i cellulari riescono ad inquadrare perfettamente anche perché sapete che più si è lontano vede due oggetti eccoli qui e più è sfocato quindi non lo so come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero ciao